Mannaggia, ma guarda chi c'è! Mannaggia, allora come vai? Come stai? Ma io... Come è stata tua mamma? La gina? La gina? Ma lo sai che conosco io? La gina, come mamma? La voce? Ma io ti ho visto che è di piccino, piccino, giocami con le siringhe. Eppure mi sembra... Ma che vero! Quando vedo te, guarda, profumo di caffè, eh? Tu facevi caffè buono, i più buoni di Bulgaria. Ah, perché a casa ci sa quella macchinetta se pagavamo tutti i soldi. Sì, quella vera. Ora, dove è che abitavi? Mi scuse. Io stai prendendo via facciani 10. Io faccio le 10? Ma c'è sempre i cani? Ma, sì, io puoi, c'è sempre. Ma che cari avevi? Ma quello, ah, quello fa le buone terre, io ho un incrocio tra un pitbull e un cavanaio 400. Ma? Ma adesso incazza diventamente, vado. Ma tua mamma? Eh? Ma che bene gli vuole a tua mamma? Ma che ne sono le pazienze? Ah, è tardi. E sono mezzanotte e mezzo. Ma qui non c'è neanche telefono e qui ti posti. C'è, no, non c'è tanto. Mannaggia, ora prendi il pancare e ti spacco montato. Ma tuo babbo? Come va tuo babbo? Ora sta meglio, eh? Sta meglio, eh? Ti ha una fava, tu li ha una fava. Ora, a comprare i 3,20 in un'ora. Oh, bello, ma qua. Ma poi, oh, lo tieni nel garage, lo tieni. Le chiavi, le chiavi e le metti sotto lo zerbino. Ognuno lo piglia, io gli ho detto e me lo pigliano. Ma guarda, se non è oggi è domani. Sì. Domani verso 3,3,20. Ma senti bello, eh? Ma pure, pure, guarda. Ma guarda, ma insomma. Ma che colore? Ti è grigio. Ho capito anche quello del colore brutto, eh? Ma quello non è proprio che tingere io. Va beh, e insomma, senti, parliamo di lavoro, e senti, dimmi le cose. Eh? Mi dai il passaggio te con macchina qui in fondo di biletta di schiera? Oh, ma ora? Aspettiamo dieci minuti che finisce il milionario, che meno dormano. Ah, sì? Sì, perché tanto a me basta che mi porti là. O dove può venire mio fratello con il furgone? Ah. A me basta che mi lascio lì. Ma io ho voglia, dimmi, ci manca. Porti? Vai, vai, andiamo. Andiamo, vai. Managia, sempre a lavorare, carica, scarica. Allora, grazie bello. Ciao, ciao. Come si vede? Ciao. Salute, mi mamma e papo, eh? Va bene, va bene. Guarda questo biscotto, Dio, buona managia. Eppure lui deve essere proprio una brava persona. Sì, sì.